Il presidente Mario Ceri, Mario, avevamo parlato alla fine del primo tempo, eravamo tutti belli sereni e rilassati e poi ci siamo complicati le cose da sole, insomma, perché di fatto oggi ha fatto tutto il grosseto, nel bene e nel male. No, no, è giusto, noi abbiamo giocato la prima mezz'ora benissimo, poi, ripeto, posso capire anche a livello mentale un calo, perché sta sul 4-0, è chiaro che uno si possa rilassare un attimino, però noi ci siamo rilassati troppo, specialmente in solo tempo non si è più giocato e questo non va bene, perché le partite durano 90 minuti. Al di là di altre situazioni che poi non voglio stare qui a commentare, per cui un po' di presunzione c'è stata e questo devono capire che noi siamo una squadra che se si cala un attimino i ritmi e la testa, siamo una squadra di bassa classifica, quindi bisogna giocare sempre con la voglia di vincere, sempre con la voglia di correre, sempre con la voglia di dare il tutto in tutte le partite. Questo è quello che ho visto, mi è dispiaciuto un po', perché il secondo tempo proprio non mi è piaciuto. Io dicevo a Mister Magrini che magari è la classica partita dopo le feste, dopo una sosta, ci può essere una serie di cause che poi saranno analizzate. Positivo però va riconosciuto, a parte il bel gioco, le quattro reti nel primo tempo, la quinta annullata, non abbiamo capito se veramente in maniera giusta o meno, il presunto rigore su Cretella da rivedere, ma diceva Milani che se non altro abbiamo iniziato il nuovo campionato, perché di fatto è la seconda parte del campionato, con due punti in più rispetto all'andata, questo sicuramente è un aspetto positivo. No, ma gli aspetti positivi si sono sotto tutti i punti di vista, perché mi avessero detto che prima del riuscito, il giornale di ritorno eravamo solo di classifica, ci ho messo 9 a firma e noi eravamo 10, quindi gli aspetti positivi ci sono. Però ecco, bisogna stare attenti a avere questi cali di direzione e queste supponenze che secondo me non va bene, insomma, ripeto, perché va bene, amici 4-0, continuo a giocare, magari cali un po' il ritmo e tutto, però noi siamo giocati proprio al secondo tempo, abbiamo visto la supponenza, chi va al cerco al turno, il colpo di tacco, chi magari vuole andare da solo quando c'è un compagno libero, ecco queste cose bisogna evitarle, insomma, il mister lo sa che abbiamo già parlato e lui è d'accordo su quello che ci siamo detti, anche lui l'ha visto come l'ho visto io, per cui martedì si farà una chiacchierata con questi ragazzi, che però, ripeto, fino ad oggi meritano tutti i nostri complimenti, perché stanno facendo un campionato bello, insomma. Io ti faccio complimenti perché sei sempre obiettivo, onesto, insomma, non è che le mandi a dire. Perfetto, Mario, grazie mille e di nuovo un buon 2020 a tutti. Grazie a voi.